La regione siciliana ha superato l'obiettivo di spesa fissato dall'Unione Europea per il FESR 2014-2020 certificando oltre 3,3 miliardi di euro e disponendo di ulteriori 300 milioni di euro per la chiusura del programma prevista. Per luglio il presidente Renato Schifani attribuisce questo successo ad una gestione attente e a una riprogrammazione strategica delle risorse ringraziando il personale coinvolto per il nuovo ciclo FESR 2021-2027. Sono già attive 17 procedure per 1,2 miliardi di euro con altre 33 previste entro fine anno consentendo l'utilizzo di circa 2,2 miliardi per sostenere imprese e comunità locali in Sicilia.